Con Carmela Lombardi, Presidente dell'Associazione Salute e Territorio di Troia, si parla dell'udienza dibattimentale per quanto riguarda il processo sulla discarica di Borgo Giardinetto in Agro di Troia. Questa mattina la costituzione dei soggetti in parte civile, la comparizione dei tre imputati, si è arrivato poi in successiva battuta alla nomina di un perito da parte del Presidente del Tribunale di Lucera, il Dottor Pecoriello, nella figura dell'ingegner Masi. È una situazione che vi aspettavate? Devo dire che siamo sorpresi e siamo felici dell'ammissibilità di tutte le costituzioni di parte civile. Noi abbiamo lavorato oramai da tre anni per cui avevamo un particolare interesse non tanto legato ad un vero e proprio risarcimento ma per dare comunque visibilità ad una vicenda che in effetti presenta tutte le caratteristiche di un disastro ambientale. Ora cosa succederà di qui al 31 marzo? Quali saranno le mosse da porre in essere e se si potrà intervenire in qualche modo? Da parte nostra ovviamente, essendo uno dei nostri scopi fondamentali, sarà quello sempre di tenere informati tutti i cittadini, i nostri soci, per tenere alta l'attenzione su questa vicenda. Ovviamente cercheremo anche di trovare dei possibili quesiti da porre a questo ingegnere perché comunque l'attività di messa in sicurezza non è stata completata, non è stata portata avanti così come deve essere fatta. Per cui in quel caso chiederemo spiegazioni perché il sito purtroppo è accessibile, si parlava appunto dell'amianto che doveva essere incapsulato e non è stato fatto. Un'ultimissima, è mancata la presenza di alcuni enti territoriali, in particolare manca il comune di Lucera, il comune di Bovino, ci è stato anche riferito ulteriormente. Diverse le assenze anche rispetto alle presenze che comunque ci sono state? Sì, a me la mancanza che mi sembra più emblematica è proprio la provincia di Foggia perché la provincia è comunque l'ente preposto in prima persona, per cui quella mi sembra una mancanza abbastanza grave. Grazie.